La fauna del Loch Ness Il Loch Ness è davvero un lago pieno di misteri. Il DNA delle creature mitologiche è solo una nostra invenzione per rendere coinvolgente il racconto. Al lago succedono fatti strani, ma nessuno è mai riuscito a scoprire prove certe che al Loch Ness si nascondono i mostri marini. Forse un tempo esistevano. Ovviamente sto parlando del mostro che è stato scacciato da San Columba. In questo video rappresenterò le specie viventi che vivono al lago di Loch Ness. La tinca La carpa Il luccio Il luccio perca Tante varietà di anguilla L'ostorione Il pesce persico Il siluro Il siluro Il siluro albino Il salmone nero La carpa a specchio Il temolo La tirapia dal ventre rosso La lampreda La carpa ribivora Il rutilo Il barbo La bottatrice La bottatrice Il cavedano Lo spinarello La sanguinirola La sanguinirola Il gobione Il salmone atlantico La bramide La carpa argentata La sanguinirola Lido Lido Il salmerino alpino Il pesce lupo Il salmerino eddi Varietà di trote Uccelli Mammiferi Prostacei Prostacei E rettili Grazie per la visione L'ascolto Il salmerino